TGEP 2020 siamo allo stand di Moretti Forni, un'azienda con oltre 70 anni di storia che ci facciamo raccontare in un solo minuto laddove fosse possibile dal suo general manager e CEO Mario Moretti, Mario benvenuto. Grazie di questa opportunità, Moretti Forni è un'azienda storica, nasce nel 1946 un'azienda che tuttora è a gestione familiare per quanto sia improntata in stile manageriale siamo la terza generazione, attività iniziata da mio nonno con un primo forno per pasticceria per poi arrivare nel tempo a sviluppare tantissime soluzioni soprattutto nell'ambito del food anche della ceramica, forni per ceramica ma oggi siamo concentrati molto nel mondo del food pizzeria, pasticceria, panetteria dando soluzioni tecnologiche ai nostri utilizzatori. Qual è la novità che presentate in fiera? Io leggo dappertutto in questo splendido stand Cottura Futura, che cos'è? Allora Cottura Futura è il nostro nuovo format, definito format è riduttivo, in realtà è un vero e proprio incubatore dove Moretti Forni insieme ai migliori professionisti del settore sviluppa idee innovative concetti innovativi che poi trovano applicazione nell'utilizzo di tutti i giorni, quindi diventano subito appannaggio e fruibili ai nostri clienti utilizzatori in tutto il mondo. La cosa è molto interessante perché ci permette costantemente di migliorare noi stessi perché sempre noi ci mettiamo in gioco, sappiamo che dobbiamo imparare ogni giorno nonostante Moretti Forni sia un'azienda appunto di più di 70 anni, ma forse il nostro spirito vincente è proprio quello di metterci continuamente in discussione e ascoltare quello che ci dicono gli utilizzatori per poi dare soluzioni concrete, benefit concrete ai nostri clienti. Tra le vostre attrezzature ci sono vari modelli di varia grandezza e tipologia, qual è quella più indicata per la panificazione? Per la panificazione abbiamo appena lanciato la versione rinnovata di serie S che è un modello assolutamente versatile in quanto può essere adatto a tutti i tipi di prodotto lievitato quindi specificamente anche per la panificazione dove possiamo trovare combinazioni e avere grazie agli accessori che abbiamo messo in campo su questo tipo di prodotto una varietà praticamente infinita di combinazioni per ricoprire le esigenze di qualsiasi utente. Infine Mario, per chiunque si trovi dall'altra parte e sebbene voi abbiate una rete di agenti estremamente capillare, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno per diventare vostri clienti, saperne qualcosa di più o avere maggiori informazioni proprio per un contatto con un agente? Certamente, possiamo lasciare un indirizzo che è info.amoretiforni.com tenendo presente che anche siamo molto attivi sui social quindi anche i contatti via social, via Facebook, via Instagram sono comunque gestiti giorno per giorno, ne riceviamo tantissimi e li gestiamo, diamo risposte comunque a tutti Bene, allora buon lavoro e buona compagnia con tutti coloro che sono qui intorno a noi perché avete oggi uno stand estremamente pieno di persone Grazie mille, siamo contenti di questo e siamo a Cigep proprio per presentarci in questa maniera e dare tanti contenuti nuovi a chi ci viene a visitare, grazie